Seguendo la via della Repubblica Ceca, anche l'Austria riprende i controlli al confine con la Slovacchia a partire da questo giovedì, una decisione presa per impedire l'ingresso di migranti legali diretti verso la Germania. Come sottolineato dal cancelliere austriaco Karl Nehammer, sono misure che dipendono da un effetto domino. Ecco perché bisogna reagire prima che reagiscono i trafficanti di esseri umani e quindi di immigrati clandestini, una norma che segue la reintroduzione dei controlli al confine slovacco da parte della Repubblica Ceca. Il governo di Vienna fa sapere di non avere altra scelta. Il flusso di migranti illegali ha raggiunto cifre record negli ultimi mesi, ingestibile anche per la polizia di frontiera e per le forze di sicurezza. Dall'inizio dell'anno abbiamo registrato 140 reati, mentre sono 125 i trafficanti indagati, ha fatto sapere il capo della polizia cieca. Questi sono numeri che non si sono mai registrati nel nostro paese. Un confronto lo si può fare forse con l'ondata migratoria del 2015. Quest'anno abbiamo fermato per oltre 12.000 migranti illegali, quattro volte di più rispetto a sette anni fa. Intanto a Praga gli immigrati si sono radunati in un parco intorno alla stazione ferroviaria principale. La maggior parte arriva dall'India o da paesi del Medio Oriente. Come quest'uomo siriano dice di essere scappato dalla guerra. È difficile vivere in un posto dove ci sono conflitti. Un possibile effetto domino tra i paesi confinanti con Austria e Repubblica cieca ora potrebbe ridisegnare alcuni punti del trattato di Schengen in tutta la regione.